Musica E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e questo giorno giocheremo a Tube Tycoon E stiamo tornati su questo bellissimo gioco Guardate quanti iscritti abbiamo raggiunto 1762 Tantissimi ne abbiamo più del nostro canale E se un'altra cosa che abbiamo in modo esagerato 75 video in 21 giorni Spiegami come è possibile Allora matematicamente quanti sono prima di tutto Dai che tu lo sai sempre sei bravissima Quanti sono o quanto? Quanti video hai registrato al giorno per farne 75 in 21 giorni? Hai 5 ml e ne vendi 2 Quante ne rimangono? Due E così non mi chiedere calcoli Comunque abbiamo capito che Steriniki è un vero portento a fare i video Cioè non lo ferma più nessuno È un carro armato Ha iniziato col canale e non si ferma più Comunque comunque Una cosa importantissima per oggi Ok Sai qual è? Voglio entrare a far parte dei W Brotherhood Guardali E chi sono? Non ho capito bene che cosa sia Ok forse ci aiuteranno a fare dei video migliori Magari è il manager Aspetta aspetta Visto che sembrano Sembrano una specie di quelle culti strani Una sette Esatto una setta Magari una setta di assassini E ammazza tutti i canali vicino a te Che sono troppo più grandi di te Tu gli dai il target e loro lo ammazzano E te ne sbarazzi Ma gli regalerei 50 dollari Ma altro che 50? Mille Ma tieni ammazza tutti Comunque non sappiamo bene che cos'è Abbiamo 11 dollari Ce ne servono 50 quindi dobbiamo sgobbare Dobbiamo iniziare subito a fare i video Guardate abbiamo 3 serie in ballo Morio Ormai episodio 19 E' proprio il must del nostro canale Pikamon Chi è che non conosce Pikamon E Banana Ninja episodio 23 Io mi chiedo come puoi stare Niki Fare 23 episodi di Banana Ninja Perché al pubblico piacciono Banana Ninja E lei porta ciò che piace al pubblico Cosa vuoi registrare? Fammi vedere cosa abbiamo No giochi non ne possiamo comprare Dobbiamo solo continuare queste cose Sì sì per sempre Non possiamo farne altre Allora direi Pikamon Pikamon perché oggi mi sento in vena di fare Pikamon In fondo noi siamo un Jigglypuff Quindi perché non fare Pikamon? Vi voglio far vedere il potere di Jigglypuff Noi possiamo prendere E mettere a registrare ed editare tre cose insieme Lui non si sa come le fa E' un supereroe Cioè com'è possibile? Tre serie contemporaneamente Tipo tre webcam Fa tre cose diverse E' un portento Vedi Stereniki lavora più di noi E' a solo 11 dollari Poverino non se li merita Poverino o poverina Non so cosa sia Leggiamo un po' di commenti di Pikamon Allora abbiamo Dieci di dieci Ci hanno fatto la recensione Ok con 22 like Dice di investire in un equipaggiamento migliore This audio is terrible Abbiamo lo stesso problema del canale vero Stavo criticando Banana Ninja Ma hai notato quante visualizzazioni ci ha fatto Cioè 1195 Solo quello Per quello Jigglypuff continua a portarlo Io l'ho criticato Ma alla fine è la serie che ci fa più visualizzazione Ora capisco perché Stereniki ne ha voluti fare 23 E ti farei notare un'altra cosa Ma hai visto i guadagni? Sì I guadagni Sarebbe un mondo meraviglioso Se si facessero un dollaro ogni 100 views Cioè saremo tutti Cioè saremo strarichi pure noi Però purtroppo non è possibile E siamo già 37 su 50 Siamo vicini Sì non manca molto Quindi andiamo subito a registrare altri video Allora quello che interessa di più ancora è Banana Ninja Non si stancano mai di questo gioco Quindi chiudiamo la giornata con un altro video Magari facciamo altri 1000 views E ci siamo quasi Proprio un altro Vedi come siamo efficienti Vogliono un episodio E gli diamo subito Esatto Guarda le visualizzazioni Guarda come stanno salendo A quanto arriva? Dai su 2000 stavolta No Secondo me 853 No 2000 Su Dai E vai e sali Uh ok ok Ma salgono nel tempo in sto gioco? No no praticamente Il video compare Loro lo guardano Ciao Scomparso dal mondo Non farà mai più views Non appare nelle ricerche Niente Niente È come se fosse uno streaming È una vita difficile Inizia il nuovo giorno E quindi vuol dire Che abbiamo di nuovo L'energia completa Quindi Dobbiamo registrare Per raggiungere i 50 dollari Ruttato Perché ne abbiamo perso nell'affitto L'affitto sta diventando troppo caro Non mi piace questa cosa L'affitto non si sa bene perché Probabilmente per tipo L'elettricità che consumi Non lo so però aumenta Ma se registrando altri video al giorno Consumi tipo capito Come no centrare il nucleare Quindi ti prendo un sacco di affitto Va bene Voglio sfruttare di nuovo Il potere di stere Niki E ne registriamo tre tutti insieme Allora uno Vai stere Niki Che ci hai fatto fare un sacco di iscritti Bravissimo Ma io mi chiedo Ma chi è sta gente? Non lo so Cioè alcune sono anche facce Quindi Cioè hanno rubato le foto a qualcuno Non lo so Però così Arrivano Ehi 175 Allora Prova a leggere i commenti di Pikamon Cioè scusa Sono 1700 views Sembra che sia piaciuto un sacco Great stuff Thanks Another amazing episode You make the best The best E grazie First Il first Cioè davvero Shrek is love Shrek is life No ma il first Mi ha lasciato un pochettino Così a bocca aperta Perché c'è sempre Anche qui In un simulatore di youtube E mi sembra giusto Comunque abbiamo i soldi Andiamo? Proviamo Io non so cosa aspettarmi Vediamo Ma ci rubano i soldi E se ne vanno E dice che è una sorta di associazione Vedi Cioè però Associazione di alchimia Di alchimia Scusami Oh Allora Ho capito Allora Allora Praticamente sono delle pozioni Giusto? Sì Delle pozioni che se noi beviamo Vedi Questa sicuramente aumenta il tempo Ok La seconda L'attività Quindi penso La produttività Fare più video Probabilmente Potremmo fare più video per volta Secondo me sì Ok È la rossa La fame Quindi per diventare famosi Gli iscritti? Vabbè Noi siamo qui per la fama Dai Lo sa chiunque Quindi Andiamo di pozione rossa Certo Ancora Ah la fortuna Amount Cosa vuol dire? Forse l'ammontare degli iscritti Sì 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 Quindi fortuna Probabilmente iniziamo a guadagnare Sempre più iscritti Ogni volta che facciamo un video Con Amount Probabilmente aumentano subito Via Che dici? Non lo so Non lo so Scusa Fammi vedere allora le possibilità Anche degli altri È una scelta difficile Allora Con attività puoi avere o più energia O più esperienza Esatto Le stats che abbiamo Publishing Magari Cioè Cioè Capito? Tu praticamente droghi i tuoi iscritti Per fargli piacere i tuoi video Cioè È una genialata Metti messaggi subliminari Ma potrei poter ipnotizzare anch'io Cioè Scherzi Sull'ipnotizzi Capito? Con la forza delle pozioni E loro magicamente Non avremo più commenti negativi Ma dov'è questa setta? La voglio trovare nella vita reale Ma bisogna anch'io Cioè Perché non mi fanno partecipare Comunque Io direi Di aumentare Iscritti Che dici? Tu cosa Non lo so Io direi Visto che su YouTube serve anche fortuna Ci beviamo una pozione di fortuna E tra vedere e non vedere Ce la giochiamo così No? Che dici? Secondo me Ma pensi che poi si potrà cambiare O è definitiva? Non lo so Magari una volta al giorno cambi Vabbè proviamo Proviamo Dai proviamo E vediamo Che succede È una setta strana Avevamo ragione Che è una setta Vedi Abbiamo aumentato la possibilità Di ricevere le raccomandazioni Ah dagli Possiamo drogare anche gli YouTuber Oh mio Dio E li fai convincere A sponsorizzarti C'è una figata Ma li vorrei Plotizzare così Anche guarda Con questa faccia Io pensavo che li avrebbero ammazzati Invece li droghiamo Per farci pubblicità Ancora meglio Ammazzarsi Quindi sembrava una cosa terribile Ma anche questa Non è che sia da meno Sì è parecchio macabra Questo che fa le pozioni E le cose succedono Va bene Ok grazie Grazie sì Ce ne torniamo a casa Lo apprezziamo Lo apprezziamo Vedi W Brotherhood Sono stati utili Per la nostra Que Crescita E conquista Volevo dire conquista E invece ho detto Crescita Ho unito le due parole Su YouTube Fai finta di nulla Andiamo avanti L'interesse dice Che vogliono vedere Un po' di Morio E noi gli diamo del Morio Prima di andare a dormire Ovviamente Morio Lo vorresti vedere Lo vorresti vedere sempre Anche tu Lo so Morio Guarda come edita veloce Vedi tu perché ci metti Un sacco di ore Non lo so Devo chiedere qualche consiglio A Sereniki Sereniki È iniziato da 22 giorni Noi ci siamo due anni Questa cosa Ed è già più veloce di te Ma non va bene È ragione È colpa mia È colpa mia È ragione Guarda le news Ok Ok Niente raccomandazioni Non ha funzionato La pozzone Secondo me ci hanno truffato Tipo Quelle streghe Che dicono Che ti azzeccano Il futuro E invece poi muori Ci ha dato un po' di Coca Cola In realtà No era celeste Quindi tipo quelle bevande energetiche Che bevi quando fai sport Il Powerade Powerade Ok ragazzi Ci fermiamo così Allora vi dobbiamo chiedere una cosa Abbiamo provato a mettere due webcam Rispetto invece a stare assieme in una Perché Con i nuovi microfoni Rimbomba parecchio la voce E per di più Siamo sempre stati stretti e scomodi Quindi così per noi È diecimila volte più comodo La verità è che io non ne potevo più Di stare vicino a lui Quindi ho detto Preferisco fare le cose in modo separato E non averlo più appiccicato Perché Cioè Non va bene questa cosa Non è che possiamo stare sempre vicini È con te che mi rompi tutto il tempo Non sei per nulla simpatica Comunque Fateci sapere nei commenti Se vi piace Se comunque è carino Perché per noi Farebbe decisamente comodo Registrare i video Che giochiamo in un solo PC Così Quindi fateci sapere un pochettino Per il resto Fateci sapere se avete altri video di questo gioco Magari facciamo il video Dove li abbiamo a 100.000 iscritti Dato che ormai abbiamo comunque la setta Cioè sarà facilissimo E pozioni Quindi ci fanno tutto E noi dobbiamo solo pagare Esatto Beh ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!